15 secondi, la Grecia non difende più, Alessandro Gentile vuole andare fino in fondo e va a chiudere i conti schiacciando in faccia Papa Nicolao, l'Italia è alla seconda fase, ora lo possiamo dire senza margine di errore l'Italia non solo alla prima fase ma anche prima nel gruppo D, che bella questa immagine di Gentile in schiacciata su Papa Nicolao Alubiana Siva